Oggi riparte l'iniziativa sulla Previdenza per dare una prospettiva di pensione giusta e equa non solo ai lavoratori ma anche ai giovani. Oggi riparte l'iniziativa, noi abbiamo fatto già in passato, nel mese di dicembre abbiamo avanzato al governo la nostra piattaforma. Il governo purtroppo non ci ha neanche ricevuto, come vediamo purtroppo in questo paese vengono rappresentati nel Parlamento e nel governo una serie di interessi, anche quelli più particolari come abbiamo visto in questi giorni, invece quelli che sono interessi diffusi, quelli del lavoro, quello dei giovani, quello insomma delle pensioni non viene rappresentato, è necessario imporre questo tipo di agenda. Nelle piazze delle province di tutto il sud Italia, questa mattina anche l'UGL per il Sud Act 2016-8, le priorità per rilanciare il mezzogiorno quali? Le priorità vanno dall'ambiente, vanno dalle infrastrutture, vanno dal sviluppo ecosostenibile, vanno dall'utilizzo dei fondi strutturali, vanno su tutti quegli argomenti che servono per recuperare il gap che il sud Italia ha con il nord. È un'iniziativa che stiamo ripetendo nel 2016, l'abbiamo già fatta nel 2005 e nel 2015 in tutte quante le regioni, perché crediamo che questo governo sul sud è ancora assente. La cosa che ci dispiace di più è che essendo convinti che tutte le regioni del sud hanno una filiera corta con il governo, sono tutte quante di centro-sinistra, non sono riusciti a produrre un documento unico di rilancio sud. Anche il masterplan che il governo sta mettendo in campo è una specie di lista della spesa che ogni regione ha fatto per conto suo. Crediamo che questa mancanza di organicità non fa bene né al sud né alla programmazione economica di cui è necessario risollevare il sud e il resto d'Italia.